ciao allora oggi voglio farvi un video review questa video review sarà la review dei dischetti lavabili che avevo fatto vedere un mese fa che avevo acquistato dal sito lucy rose ma come sapete per chi non lo sa lo dico si possono acquistare anche dal sito eco belli e sono questi dischettini dischettoni anzi lavabili vedete e sono cinque dischetti e sono disponibili sia bianchi che tutti colorati sono venduti in questa retina che è molto utile per conservarli e per lavarli lavatrice allora cosa posso dire di questi dischetti io li adoro è già un mese e mezzo che li uso e devo dire che non so come ho fatto a stare senza fino adesso non ho assolutamente più intenzione di comprare dischetti quelli usegetta di cotone perché questi sono veramente favolosi allora io come li uso e quando li uso allora io li uso ovviamente per struccarmi e li uso con questo prodotto qui che ha di fitocose ed è la lozione detergente alla zulene viso occhi è una lezione ecobio questa già comunque mi trovavo molto bene perché secondo me strucca molto bene mi piace non brucia e devo dire che abbinata a questi dischetti funziona ancora di più devo dire che con questi dischetti per chi ha secondo me la pelle molto delicata sono favolosi perché non serve strofinare tanto perché come vedete la trama di questi dischetti è molto molto morbida molto fina quindi andate perfettamente in tutti gli angoli della pelle e perfettamente a struccare in mezzo alle ciglia e sono molto vedete sono anche comunque le riuscite a schiacciare quindi riuscite anche a fare gli angoli davvero si usano molto bene e io come come li uso io metto da un lato il mio struccante quindi mi strucco e dall'altra parte metto il mio tonico il mio tonico è questo qui che è l'aloe azzuline di fitocose e devo dire che all'inizio ho provato perché pensavo che comunque mettendo il liquido da una parte andasse comunque a finire sotto comunque assorbisse troppo liquido non struccasse bene invece devo dire che il materiale che c'è all'interno di questi dischetti è veramente un materiale ottimo per questo uso perché non viene assorbito un pochino ma non del tutto quindi il sopra del dischetto rimane bagnato non troppo bagnato e non troppo asciutto e non va comunque al di sotto quindi da un lato metto lo struccante dall'altro lato metto il tonico e riesco a usare semplicemente un dischetto per fare tutte e due le cose strucco molto più velocemente rispetto a prima mi serve meno prodotto e comunque quando finito di struccarmi o semplicemente metto un pochino di sapone che può essere sapone per le mani o una saponetta sul dischetto faccio questo movimento per creare una leggera schiuma e lo lavo già devo dire che viene lavato molto bene poi dopo qualche giorno quando l'ho usato per qualche giorno li lavo in lavatrice quindi li metto o lo metto dentro la mia retina in questo modo e la chiudo vedete che ha questa chiusura a modo da non farlo uscire e lo lavo il lavatrice questi dischetti come vedete si possono lavare a 40 gradi separatamente ovviamente dai colori scuri e devo dire che vengono lavati benissimo li ho già lavati qualche volta e non ho avuto nessun problema non si sono né ristretti né rovinati niente di niente devo dire e quindi mi sono mi sono piaciuti veramente molto inoltre come ho già detto comunque vi lascio il link qua sotto al mio video li ho pagati 7 euro 90 quindi veramente il prezzo è veramente molto buono sono molto delicati fanno fanno il loro lavoro davvero e soprattutto se può interessare fanno un leggero scrub se si così si può dire sulla pelle ma uno scrub è veramente molto delicato che comunque è molto molto piacevole non irritano comunque la pelle sugli occhi sono veramente molto delicati e mi piacciono davvero davvero tanto ovviamente molto più avanti vi saprò dire come le loro condizioni nel senso dopo tanto tempo se sono ancora integri se qualcuno si è rotto eccetera eccetera comunque per ora devo dire che mi stanno piacendo veramente tanto avevo detto questo questi dischetti mi erano stati regalati dal mio fidanzato per san valentino ed è veramente stato un regalo favoloso perché mi è piaciuto tanto glielo ripeto sempre sono veramente molto contenta di questi dischetti quindi se vi interessano vi lascio il link ai due siti dove li potete trovare qui sotto e niente spero di avervi detto tutto e ci sentiamo al prossimo video ciao ciao